Tragedia, il primo giorno di lavoro del cantiere, aperto stamattina in via Asolana, Crespano del Grappa. L'avigno originato, 58enne di Asolo, esperto escavatorista, è morto schiacciato sotto una benna. L'uomo aveva iniziato proprio oggi le opere di costruzione del nuovo plesso scolastico comunale, vicino agli impianti sportivi di Crespano. Verso le 14.30 era salito sulla ruspa, stava effettuando alcune manovre. Quando è accaduto l'irreparabile, non si capisce come la benna si è staccata dal braccio della macchina. È piombata sulla schiena del 58enne, provocandogli traumi fatali. Inutile ogni soccorso, i sanitari del suo e mi hanno provato per un'ora a rianimarlo, senza esito. Si è atteso l'arrivo del medico legale per accertare il decesso di Lavinio originato e permettere quindi il trasferimento della salma all'obitorio di Castelfranco Veneto. Sul posto, anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, lascia la moglie e due figli.